La regione Abruzzo prosegue la marcia verso le politiche ambientali finalizzate alla gestione integrata dei rifiuti. Attenzione speciale poi al compostaggio domestico, quello che prevede di gestire in proprio la frazione organica presente nei rifiuti solidi urbani. L'Abruzzo, secondo i dati raccolti, ha raggiunto percentuali che la rendono regione virtuosa. Quella di oggi, che riguarda il tema del compostaggio domestico, è un segmento del quadro dell'economia circolare, come altri li abbiamo perseguiti, per quanto attiene i rifiuti elettrici ed elettronici, quelli da carta e cartone, per cui la regione Abruzzo è la prima regione del sud, per quanto attiene anche il discorso della plastica, l'attività che abbiamo svolto insieme al Correpla. Insomma, tutti questi segmenti che poi alla fine ci hanno fatto avere questa performance, che dicono almeno i dati reali, ancorché in nostro possesso, ancorché non ancora ufficiali, che la regione Abruzzo in termini di differenziazione dei rifiuti veleggia su percentuali superiore al 60%. Ma se da un lato cresce il bisogno di convertire le regioni alla raccolta integrata ed ecosostenibile dei rifiuti, dall'altra la notizia è quella di un inceneritore che dovrebbe essere accolto dalla nostra regione per un decreto del governo. Secondo me non solo può evitare, deve evitarlo, ma è nei fatti già un'ipotesi estremamente remota, perché non ce ne sono le condizioni, perché c'è la possibilità di agire diversamente e soprattutto perché se uno va a considerare i tempi per la realizzazione di un piatto così fatto, arriveremmo credo ben oltre il 2020, quando noi in termini di produzione dei rifiuti dovremmo essere perseguendo queste politiche, come stiamo facendo ormai da qualche tempo, ben lontani da quell'evenienza.